Il progetto proposto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, finanziato dall'impresa sociale con i bambini, coinvolge la rete di cinque regioni, fra cui l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Campania. Gli eventi prevedono una campagna di arruolamento di volontari per la registrazione dei testi, per trasferire e verificare le parole scritte, per raccontare e per informare. Un'opportunità che il Centro Nazionale del Libro Parlato offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che per i motivi più diversi hanno difficoltà di lettura. Uno dei servizi più preziosi, la possibilità di rendere viva la parola scritta, di trasformarla nella viva voce, per raccontare, informare. Due gli eventi che si terranno a Salerno i prossimi 7 e 13 aprile dalle 9.30 alle 11.30. Per entrambi relatore sarà il dottor Raffaele Rosa, presidente sezionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno. Gli interessati devono far pervenire entro il 31 di questo mese la loro adesione con l'indicazione del proprio recapito telefonico all'indirizzo di posta elettronica uicsa-uici.it. Agli iscritti verrà poi inviato il link per partecipare agli eventi sulla piattaforma Zoom Meeting.